Elisabetta Bombaglio, presidente della Dolce Vita, 10 anni di attività, festeggiati sì, ma anche celebrati con un momento di approfondimento vero. Davvero, sono molto soddisfatta dell'incontro di questa mattina, perché è stato sì un momento di festa, l'obiettivo era anche fare festa, ma è stato un momento di approfondimento e di confronto con la SST Vallolona e con la nostra diabetologia. Mi sembra che ci siano stati moltissimi approfondimenti, spunti per nuovi sviluppi buoni di supporto ai pazienti e alla diabetologia da parte dell'associazione, quindi speriamo che tutto possa andare per il meglio da qua ai prossimi mesi. Ci conto! Grazie a tutti!